I televisori Panasonic della serie DX730 sono Smart TV dotate di pannello LED Ultra HD e risoluzione 4K. Queste TV presentano un design moderno ed elegante, con piedistalli switch design che rendono i televisori DX730 versatili ed adatti ad ogni tipologia di ambiente. I TV Panasonic DX730 integrano un processore Quad Core Pro che produce una qualità 4K superiore grazie alla precisa riduzione del rumore. La combinazione tra pannello LED Ultra HD e le diverse tecnologie d'immagine come Bright Color, Wide Color Phosphor e Wide Color Spectrum permettono una riproduzione brillante delle immagini con gamma cromatica più ampia ed un effetto ancora più realistico. I televisori di questa serie sono dotati della piattaforma My Home Screen 2.0 basata sul sistema operativo Firefox. Tante le funzioni, tra le principali spicca My Stream con contenuti on demand provenienti dal web e da file multimediali presenti sui vostri dispositivi mobile. Inoltre grazie a 4 tuner sarà possibile visualizzare contenuti via satellite, via cavo e tv oltre la normale programmazione del digitale terrestre. Panasonic DX730 è un dispositivo innovativo, adatto a chi ama l'intrattenimento e non vuole rinunciare a nulla.